Il primo giorno che inizio a lavorare Com'è? Ritornare? Un po' stanche di stare Il primo giorno non so darti C'è un po' di timore però a prendere i treni Tranquillità Tanto bisogna andare avanti Ci dobbiamo convivere con questo C'è un po' più gente del solito E le Trenordo avrebbero potuto mettere Il treno che arriva alle 6.31 Quello è il 27 Invece questo è il 53 Che la gente qui è triplicata Avrebbero potuto mettere qualche treno in più In questo modo come facciamo a mantenere la distanza? Troppa gente Leva a Milano? Sì Bene Bene Aspetta un'esonio e altro ok C'è una tanta gente per questo binario Che poi non c'erano Le distanze di sicurezza si riuscivano a mantenere? Benissimo, tutto bene Tutto bene Il treno era lungo C'era posto per tutti Mandavano il messaggio di rispettare le distanze Quindi nessun problema Invece il treno per catacolizzate Nelle 7.09 In ritardo e partenza dal sinario 6 Quindi nessuno è un'esonio di rispettare le distanze Invece il treno è un'esonio di rispettare le distanze